che emozione essere qui barbara a fare un video ea riprendere simone bianchi mentre disegnato al vivo che emozione grazie di vedere c'è finito ovviamente c'è una gomma in bocca che sto no non è vero e invece sto stavo dicendo sto facendo un'attenzione massima a non cianciucarti nel microfono peraltro comprate per aumentare un po la spesa perché come al solito la moglie mi lascia senza contanti nel portafoglio quindi mi scocciava per 4 e 50 di tometri c'è anche sciango noi le chiamiamo sciangomme da cui da chewing gum sono diventate sciangomme e quindi ora devo rientrare dell'investimento capite capisce capite mi sto divertendo con questa tecnica che ho usato in passato ma recentemente l'avevo usata pochissimo e lo sfumino e la grafite che praticamente a seconda a seconda di quanto premio contendo sfumature più o meno scure e divertente e veloce capite le parti scure di wolverine di questo wolverine le ho fatte così attenzione live che bello della rivetta gloria ci fa ho Sì.